...dove l'atterraggio di centinaia di navi spaziali non identificate è ora ufficialmente confermato come un'invasione della Terra su vasta scala ad opera di marziani. Sì! Sì, ciò che stiamo vedendo è orribile, non credo ai miei occhi. La gente muore, viene calpestata da sulle scala rettate con i buchi. I capi dell'energia elettrica, ha abbattuto davanti. Potrebbe bloccare, non potrò mai messa niente. Oh, mio carico! Oggi Radio 3 è tutta la radio possibile. Radio 3 Mondo Buongiorno e bentornati a Radio 3 Mondo da Luigi Spinola che anche in questo 13 febbraio raccogliamo il testimone da tutta la città Neparla. 13 febbraio è la giornata mondiale della radio indetta dall'UNESCO e Radio 3 partecipa a questa giornata. L'UNESCO vuole celebrare la flessibilità di questo strumento, la sua straordinaria vitalità che gli permette ancora oggi di essere lo strumento di informazione che raggiunge più persone nel mondo. In qualche modo, per dirla con l'UNESCO, se esiste un diritto all'informazione oggi di fatto è un diritto. un diritto alla radio e tra l'altro, ecco, uno dei percorsi che vorrei anche suggerire è proprio quello che porta al sito dell'UNESCO, il sito dedicato al World Radio Day. Sarebbe troppo complicato darvi l'indirizzo, diciamo che cercate UNESCO World Radio Day, arrivati in un sito che rimanda a messaggi, articoli, archivi sonori che arrivano da tutto il mondo. Oggi tra l'altro la parola d'ordine è condivisione, quindi approfittate. Noi facciamo la nostra parte a Radio 3 con l'impegno molto semplice, l'impegno programmatico, oggi, come gli altri giorni, di darvi tutta la radio possibile, siccome parlando della radio che cambia, ne abbiamo già parlato con Giorgio Zanchini, a tutta la città ne parla, uno dei punti cruciali è che la frontiera tra chi la radio la fa e chi la radio l'ascolta è diventata via via sempre più porosa. Allora oggi più che mai vi chiediamo anche i vostri contenuti, i vostri pensieri, come cambia il vostro rapporto con la radio. Inviateci quindi una mail a radio3chioccioarai.it, seguitici o inviateci i vostri tweet a chioccioaradiotretweet e potete anche ovviamente mandarci un sms al 335-56-34-296 e parlando di noi, invece di noi che guardiamo al mondo, a Radio 3 mondo, in qualche modo riprendiamo anche qui un discorso avviato durante tutta la città ne parla, dove Giorgio Zanchini ha discusso con Marina Petrillo, direttore di Radio Popolare, del ruolo e l'attività del social network nel contesto della rivoluzione arabe. Noi parliamo oggi di radio che lottano, di radio libere, di radio che aprono nuovi spazi all'informazione e alla democrazia ci andiamo proprio in Tunisia e lo facciamo con un progetto, un progetto di una piccola radio comunitaria che oggi ci presenta Andrea Cocco di Amisnet. Ti vorrei anche introdurre, anche solo brevemente, Amisnet. Amisnet è un'agenzia multimediale di informazione sociale ma ha decisamente un cuore radiofonico, una vocazione globale e attiva in molti progetti di cooperazione, in particolare nel Mediterraneo, puntando a far nascere una radio all news del Mediterraneo e lavorando con emittenti di paesi diversi che vanno appunto dalla Slovenia fino alla Tunisia. Andrea Cocco, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, prima di parlare di questo progetto, di questa piccola radio comunitaria che si chiama, se non ricordo male, Radio 3R, che stanno per Radio Regeb e Rivoluzione, ti chiederei però di ambientare un po' questa storia nel tempo e nello spazio. Che peso ha avuto, che ruolo hanno avuto le radio nella Rivoluzione che ha portato all'addio al potere di Ben Ali? Le radio più che altro hanno avuto un ruolo molto importante nel dopo Ben Ali. Il problema era proprio che sotto il regime di Ben Ali era impossibile far nascere delle radio indipendenti. Si è tentato a più riprese con l'esperienza di Radio Calima, che era proprio una radio indipendente che trasmetteva tutte le notizie che il regime non faceva trapelare. Radio Calima è stata chiusa sotto Ben Ali nel giro di pochissimo tempo e è riuscita a trasmettere attraverso un sistema che si appoggiava dall'Italia al satellite e quindi si poteva ascoltare in Tunisia Radio Calima attraverso la televisione. In pratica la stessa cosa per altre esperienze che tentavano di informare ai tempi di Ben Ali. C'era il cascere, i processi e c'era soprattutto la forte repressione nei confronti di qualsiasi giornalista indipendente. Io ti fermo un attimo, Andrea Cocco, però a questo punto sentirei e farei ascoltare anche ai nostri ascoltatori le voci di questa radio che è stato più neera davvero della democrazia in Tunisia, Radio Calima. Riemi il rapporto di Tunesi all'indepoca, il rapporto dell'indepoca, l'indepoca, 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 l'indepoca. Sicuramente l'avrai riconosciuto Radio Calima. Quanto è cambiata la situazione dopo la caduta di Benalì? Te lo chiedo perché proprio pochi giorni fa mi è capitato di leggere un pezzo da uno dei grandi siti ribelli che hanno avuto un ruolo in questa rivoluzione dei Gelsomini, il sito Nahuat, che parlava, dice sì, c'è stata un'esplosione di nuove radio dopo la rivoluzione e però sono passati soltanto pochi mesi dalla nascita di alcune di queste e già le radio libere sono state sequestrate e rapite dal nuovo politico. La situazione è sicuramente come descriveva il sito, problematica. Da un lato abbiamo questa grande esplosione non solo delle radio ma di un giornalismo indipendente, un giornalismo anche dal basso, un ricambio anche delle redazioni dei media tradizionali. Dall'altro abbiamo un ritorno, segnali preoccupanti di un ritorno, da un lato la censura, dall'altro a processi contro i giornalisti, vengono riutilizzate le leggi di Benalì per diffamazione o per diffondere falsi informazioni. Vengono per esempio fatti dei processi dei danni dei blogger che sono forse anche loro un simbolo molto importante di come la Tunisia è cambiata. Quindi abbiamo tante voci nuove, tante voci indipendenti ma abbiamo un forte problema a consolidare il potere dei giornalisti, la possibilità di esprimere veramente come stanno le cose da un punto di vista indipendente. Dal punto di vista delle radio questo è particolarmente problematico, sono nate varie esperienze di nuove radio, solo che oggi non c'è una legge che permette di avere delle licenze, delle frequenze sicure. Le frequenze sono ancora oggi controllate praticamente dallo Stato che ha i propri trasmettitori e per cui bisogna pagare fino a 50 mila Euro l'anno allo Stato per avere un spazio sulle frequenze tunisine. Contemporaneamente abbiamo delle emittenti libere che sono nate come emittenti pirate proprio al riposso della partenza di Ben Ali, però queste esperienze sono sempre a rischio in mancanza di leggi e in mancanza di autorità che possano veramente regolare lo spazio. Siamo in una situazione di vuoto politico in cui tutto può cambiare da oggi al domani, quindi una situazione a rischio, non a caso, a riportarsi a un frontiere, ha fatto spavare la Tunisia di quattro posti nella classifica mondiale della libertà di stampa. Insomma ci sono dei segnali preoccupanti che vanno costantemente monitorati. Ci sono al contempo, lo dicevi anche te, segnali però incoraggianti, quelli appunto lanciati dalle nuove emittenti piccole e grandi che stanno spuntando in Tunisia, grandi radio nazionali come Radio Calima, Radio Mosaic che sono più conosciute. Poi piccole esperienze comunitarie. Voi di Amisnet avete partecipato alla nascita di una di queste, Radio T3R, le R che fanno riferimento appunto alla radio, alla rivoluzione e a Regheb che se non ricordo male è un luogo nell'entroterra tunisina, in quella che è proprio stata la culla della rivoluzione dei Gelsomini. Ecco, come spunta fuori Radio T3R? Sì, Radio T3R, Regheb è appunto una città di provincia vicino a Sidi Bouzid che è il luogo dove è nata la cosiddetta rivoluzione dei Gelsomini. Il progetto segue uno spunto che è nato proprio a Regheb all'indomani della rivoluzione nel gennaio del 2011, un gruppo di giovani che hanno seguito attivamente le manifestazioni di Regheb che tra l'altro hanno portato a 5 morti, 5 morti, 5 martiri della rivoluzione locale che sono parecchi per una piccola cittadina, un gruppo di giovani decide di lanciare una radio via web. Questa radio via web è il primo esperimento che durerà più o meno 6 mesi e che inizia a girare per la cittadina e raccoglie un grande successo via internet, nonostante internet non sia all'inizio molto sviluppato nel luogo. Da questo primo tentativo, da questa prima esperienza nasce poi il progetto di Radio 3R, rinnovamento, rivoluzione. Regheb che accende i suoi canali il 9 gennaio scorso, quindi è dal 9 gennaio che la redazione inizia a lavorare a pieni ritmi con una serie di programmazioni. La cosa interessante di Radio 3R è che si tratta di una radio comunitaria, quindi il suo principio è quello di favorire la partecipazione della comunità e far partecipare la comunità al processo di informazione. È una radio locale, il che è anche molto importante in Tunisia, quello che mancava oltre all'indipendenza dei media è anche i media locali che trasmettessero informazioni locali. Radio 3R fa da un lato questo e dall'altro la sua programmazione è alimentata ogni giorno da persone, gruppi, associazioni che portano i loro programmi, che sono da programmi di informazione, programmi svolti da liceali, da gente che va a scuola, programmi sull'ambiente, sullo sport, intrattenimento, un po' di tutto diciamo. Ecco sentiamo allora, ti interrompo solo un attimo perché è bello parlare della radio, è ancora meglio farla ascoltare. Sentiamo allora anche qualche secondo di Radio 3R. Grazie a tutti. Rinnovamento, rivoluzione, regeble 3R come ci ha spiegato adesso Andrea Cocco di Radio 3R, emittente comunitaria, nata nell'entroterra tunisina. Andrea Cocco, torniamo all'attualità e torniamo alla fresco, al contesto più generale. Sappiamo tutti che sono giornate molto complicate, per usare un eufemismo per la Tunisia, forse giornate più complicate da quando è iniziato il percorso di transizione verso la democrazia, dopo l'uccisione di uno dei grandi leader dell'opposizione tunisina. Come si stanno muovendo in questi giorni le radio? Quanto riescono a parlare, ad avere quel ruolo che hanno avuto anche nella cacciata di Ben Ali? Tutte le radio, ma anche in particolare, non so se l'impatto di questo clima che si è andato arroventando in questi giorni si fa sentire anche nella piccola redazione di Radio 3R. Sicuramente, sicuramente il clima si fa sentire in tutta la Tunisia, manifestazioni lo ricordiamo dopo l'assassino si sono svolte veramente in tutte le città della Tunisia, compreso al Regev. La cosa interessante, la cosa particolare è che oggi la presenza di tanti media permette e dà sempre voglia di voler informare, di dare informazioni differenti, indipendenti da quelle che sono le informazioni anche ufficiali dei grandi media. Questo anche durante la rivoluzione nel 2010 dicembre, nel 2011 non era possibile, è un ruolo che hanno svolto i social network, le informazioni passavano per internet, per i cellulare. Oggi anche in un momento di crisi, come è questo attuale, la forte tensione che si è scatinata, anche in questo momento c'è una rete che può dare delle informazioni e che manda i suoi inviati in giro. Radio 3R per esempio ha seguito le manifestazioni di Tunisia, oltre a quelle che si sono svolte a Sidi Buside nel centro del paese, attraverso dei propri corrispondenti che stavano sul luogo, quindi c'è una voglia veramente di informare. Un altro dato molto interessante, secondo me caratteristico dell'attuale situazione, è che si sta formando, di fatto si è formato una rete tra le varie radio indipendenti, ricordiamo che ce ne sono veramente tante di esperienze che stanno nascendo e che vogliono ottenere una propria licenza, una propria frequenza. Alcuni radio indipendenti, lo dicevo all'inizio, hanno già ottenuto una frequenza, se la sono presa, altri invece si trovano in una situazione in cui ancora attendono. Però proprio il fatto di fare una rete, di informare da Tunisi a Gregerba, al sud del paese, a Gaza, alle varie città, è l'esigenza di avere un'informazione alternativa, indipendente al livello di tutto il paese. Grazie, grazie Andrea Cocco di Amisnet che ci ha raccontato la Tunisia, la democrazia in onda sulle onde della radio in Tunisia. in questa giornata, ricordo, mondiale della radio in cui i suoni delle radio di tutto il mondo attraversano anche il parincesto di Radio 3. Io vi rimando ancora una volta anche al sito dell'UNESCO che ha indetto questa giornata mondiale della radio, il World Radio Day, dove è possibile trovare davvero suoni da tutto il mondo, suoni da condividere, spunti sonori, tra l'altro punteggiano tutta la giornata di Radio 3. Avete sentito poco prima di Radio 3 Mondo alcune battute dell'indimenticabile Radio Days di Woody Allen, ma qui a Radio 3 ascoltiamo e aspettiamo soprattutto i vostri messaggi, i vostri commenti, la vostra esperienza con la radio che cambia, le vostre mail a radio3.it, i vostri tweet a chiocciola Radio 3 Twitter, i vostri sms a 335 56 34 296. 11-16 minuti 10 secondi, qui a Radio 3 Mondo parliamo di tori, così gli spagnoli chiamano più semplicemente la corrida, tori che sono tornati al centro del dibattito politico, culturale, forse perfino costituzionale, spagnolo dopo che ieri il Parlamento ha accolto e quindi inizierà a discutere una petizione popolare che chiede di proteggere la corrida, di considerarlo patrimonio culturale di tutta la Spagna ed è una misura molto, sarebbe una misura molto poco simbolica, avrebbe conseguenze molto importanti e forse potrebbe anche aprire un altro, unnesimo terreno di scontro tra Madrid e la Catalogna dove le corride sono scomparse per via legislativa, vietate dal 2012. Ne parliamo con Elena Marisol Brandolini, giornalista esperta dell'indipendentismo catalano, è uscito per EDS un suo libro di interviste sul rapporto della Catalogna e Spagna che ci parla, se non sbaglio, da Barcellona. Elena Marisol Brandolini, buongiorno. Buongiorno a voi e buona festa della radio. Grazie mille, è venuto a trovarci in studio Matteo Nucci, giornalista, scrittore, esperto di corrida e termine un po' asettico, direi appassionato, affascinato, affissionato dalla corrida. La corrida ha dedicato un bel libro, un bel romanzo reportage, un romanzo inchiesta Il Toro non sbaglia mai, è uscito con Ponte Alle Grazie. Matteo Nucci, buongiorno. Buongiorno. Allora, la petizione, questa petizione popolare ha avuto qualcosa come 600.000 firme, una cifra che fa abbastanza impressione. Vorrei intanto chiederti di raccontarci un po' che cos'è il popolo delle corrida in Spagna e quanto pesa. È un popolo sia antico che nuovo, spesso si dice che i giovani non vanno alle corrida e non è vero, è un popolo di appassionati, di esperti, non solo. La corrida è un rito, è un'arte molto complicata da capire, quindi ci vogliono anni e decine e decine di corrida per capirne qualcosa. Ma fondamentalmente è un momento in cui chi partecipa condivide qualcosa. spesso nelle plazas de toros di Spagna si incontrano sconosciuti accanto e si diventa amici. Si condivide il pane, il vino, ma nel vero senso della parola, perché si portano panini e vino e dopo il terzo toro si condividono con chi è accanto. Quindi è un momento di grande socialità, discussione, perché nessuno affissionato è d'accordo con l'altro, con quello che ha al suo fianco, però è un momento in cui ci si unisce e ci si rispetta. Quindi credo di non aver mai vissuto niente del genere in nessun luogo, né di arte né di sport. Quanto peso politico ha questo popolo, o per dirla meglio quanti agganci politici ha, visto che ormai questa proposta è arrivata al Parlamento e quindi diventa non solo materia di dibattito culturale, di senso della comunità, ma insomma, dibattito politico. La proposta parte dal basso, è una proposta popolare, di iniziativa di legge popolare. La questione politica, secondo me, è la sventura dei tori, da sempre la politicizzazione della questione taurina è un disastro, perché si tende a pensare che la corrida sia di destra o che sia, che è una cosa assolutamente falsa, Garzia Lorca, che definì la corrida la festa più colta del mondo, morì fucilato assieme a due banderilleros anarchici. Insomma, la corrida ha messo sempre insieme, è apolitica, è totalmente trasversale, e il dramma di questi giorni appunto che suscita l'indignazione degli stessi toreri e che venga supportata solo dai popolari e da altri piccoli gruppi in Parlamento. I socialisti si sono astenuti ieri, perché molti socialisti sono appassionati, però come linea tendono ad avere questa linea di politically correct, di rispetto per l'animale, senza sapere che poi l'animale si rispetta molto più con le corride che non. Elena, ma risolvendo io su questo, con un commento, potremmo aprire una discussione, ad esempio se soffre di più la vacca o il toro, non lo facciamo qui, non abbiamo il tempo, Elena Marisola Brandolini, poi magari però racconteremo anche il popolo invece anticorrida, il popolo che vede nella corrida un rito crudele in cui l'animale viene torturato, viene ucciso, però mi interessa soprattutto concentrarmi su questo rapporto Madrid-Barcellona, non solo Barcellona, che poi se non ricordo male anche le Canarie hanno vietato le corrida da tanto tempo, Elena Marisola Brandolini, la corrida così come ce l'ha raccontata Matteo Nucci, come la racconta anche nel suo libro, non si addice al popolo catalano, c'è questa impressione, me la guarderà anche la legge. Ma io credo che la tauromachia sa la Catalogna come qualunque altra tradizione, sa i popoli di Spagna, sì, magari con una minore attenzione qui piuttosto che in Andalusia o a Madrid, però il fatto di essere una tradizione non di per sé stessa significa che debba essere sostenuta. Io credo che c'è un problema politico in questa legge di iniziativa popolare di cui è iniziato ieri il tramite congressuale a Madrid, perché pone un primo problema che è tutto politico potendo mettere in discussione il rapporto di competenze tra comunità autonome e stato spagnolo e nella fattispecie il fatto che in Catalogna dopo le Canarie nel 2010 fu proibita la corrida a partire dal gennaio del 2012. Ora è vero, come si diceva anche prima, che spesso si politicizza molto il tema e anche allora siccome l'approvazione, il divieto delle corride avvenne subito dopo la sentenza del Tribunal Costituzional che tagliava le parti più qualificanti del nuovo statuto catalano che consentiva quoti di autogoverno significative per la Catalogna, era l'estatuto del 2006 approvato sotto il governo di José Luis Rodríguez Zapatero e Pasqual Magaglia e quindi questa fu letta come risposta ad un clima di disagio che si era acuito in quel periodo e che poi le cui conseguenze vediamo oggi in opzioni che vanno verso l'indipendentismo. Anche allora i socialisti ebbero un atteggiamento analogo a quello che hanno avuto ieri in Parlamento, allora lasciarono libertà di voto, ieri si sono astenuti nel Parlamento spagnolo. Può darsi, come loro dicono, che la maggioranza degli spagnoli sia contro le corride ma non sia per la loro proibizione, questo è possibile. Io però credo che poi ci sia, diciamo, bisogna vedere un po' in cosa si misura il grado di progresso, di civilizzazione di un popolo che naturalmente non è mai un dato fisso, perché se è vero che non è né di destra né di sinistra è vero che per tanti poeti che hanno sostituto la corrida ce ne sono stati tanti altri, per esempio molto spagnoli, come Antonio Masciato, come Lopez de la Vega, che invece erano contrari alla corrida perché volevano un paese migliore. Io personalmente sono contrario a forme di intrattenimento che prevedono la sofferenza di esseri viventi e credo che sia un elemento di progresso laddove questo viene meno. Ha una posizione chiarissima, Elena Marisol Barandonini. Le posso chiedere, noi fin qui abbiamo parlato di politicizzazione della corrida e quindi di un possibile contrasto Madrid-Barcellona come effetto collaterale, se vogliamo, di questa legge, qualora davvero dovesse portare o mettere in discussione anche la legge che vieta le corride in Catalogna. Posso chiedere se c'è il sospetto a Barcellona di un rapporto inverso, ovvero si usa il pretesto delle corride come una sorta di rivendicazione nazionalista spagnola, un patrimonio di tutta la Spagna in un anno che sarà, credo inevitabilmente, segnato da questo confronto tra Madrid e Barcellona, tra unità della Spagna e forme di autonomia o di indipendentismo per la Catalogna? Certo, fatti del genere poi danno la stura a comportamenti di questo tipo, ossia che ciascuno poi faccia il proprio gioco e quindi che in Catalogna possa essere utilizzato, come ieri ha detto con la convergenza del Parlamento, la rappresentante che pure sembra una sostenitrice delle corride, ovviamente ha sostenuto la posizione del gruppo dicendo vogliono cancellare una legge che ha definito il Parlamento catalano. E ugualmente si può dire della Spagna che capita giusto in questo momento qui un fatto che cerca di mettere ulteriore pressione, di riaccentrare le competenze, c'è una politica del Partito Popolare in questo senso che è un po' in tutti i campi, ci possono essere delle coincidenze o meno di tempi, è certo che la legge di inseriva popolare che ieri è andata nel Parlamento spagnolo, è una cosa che i popolari avevano già promesso due anni fa ed è certo che allora l'approvazione del divieto delle corride fu letta in chiave politicista, però io credo che la questione in sé è chiaro che se presenta una questione di lesione di competenze e quindi se la dichiarazione che la corride è un bene di interesse culturale significa che la legge statale interviene a modificare le leggi definite a livello di comunità autonoma questo rappresenterà un ulteriore elemento di conflitto. Torniamo a Matteo Nucci, giornalista, scrittore affissionato di Corride, Matteo Nucci al di là di questo confronto eterno Madrid-Barcellona della politicitazione, della questione, il fatto di essere riconosciuti come patrimonio culturale ha altri effetti molto concreti, tra questi c'è anche la possibilità di avere sgravi fiscali perché organizza Corride, di quanto c'è bisogno anche di questo per rendere anche economicamente la corrida un fenomeno sostenibile in Spagna e quindi in qualche modo da proteggere? Guardi, io non so precisamente poi di cosa si avvantaggerebbe l'economia taurina, l'economia taurina porta moltissimi soldi alla Spagna, un giro di quasi un miliardo di euro all'anno l'indotto diretto e indiretto dalle corride, insomma che sono circa 600 ogni anno. Io la leggo più da un punto di vista proprio culturale e il bene di interesse culturale la corrida è in Francia, pochi sanno che si fanno molte corride in Provenza, Arlo, Nîmes e la corrida è difesa in Francia e gli spagnoli ripetevano in questi ultimi mesi dopo l'abolizione catalana che gli sembrava di ripercorrere tempi già passati sotto Franco quando per andare a vedere i film di Buñuel dovevano passare il confine e andare in Francia, cioè per vedere arte prodotta da spagnoli dovevano andare in Francia e lo stesso capita in questi mesi da quando è stata approvata l'abolizione, i catalani vanno nella Catalogna francese o in Francia a vedere corride. Quindi insomma il bene di interesse culturale secondo me per la Spagna è riconoscere una forma di arte che è nata lì. Io poi degli sgravi fiscali so poco. Con questa citazione finale, con questo parallelo, con questo riandare alla Spagna franchis, film di Luis Buñuel, Matteo Nucci anche abilmente in qualche modo ha fatto l'ennesimo cortocircuito. Insomma lasciamo da parte la politica quando parliamo di corrida, non ne facciamo una questione di destra e di sinistra e questo mi sembra davvero condivisibile. Grazie a Matteo Nucci, grazie a Elena Marisol Brandolini, si chiude così oggi la puntata di Radio Tremondo con i ringraziamenti in regia Costanza Confessore, alla curatrice del programma Cristiana Castellotti, in redazione ad Anna Maria Giordano e Giulia Nucci, alla consola Riccardo Orsini. Radio Tremondo torna domani alle 6.50 con la rassegna della stampa S, non mi resta a questo punto che passare la linea a Radio Trescienza con Gaetano Prisciantelli e Marco Motta. a tutti voi, buona giornata.